Non siete forse per me come i figli degli Etiopi o figli di Israele, dice il Signore. Non ho forse condotto Israele fuori dal paese d'Egitto, i filistei da Kaftor e i siri da Kir. Ecco gli occhi del Signore, di Dio. Sono sopra il regno colpevole. Io li sterminerò dalla faccia della terra. Tuttavia, io non distruggerò interamente la casa di Giacobbe, dice il Signore. Poiché ecco, io darò ordini e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni. Come si scuote il setaccio, non cadrà nemmeno un granello in terra. Tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada. Essi che dicono, la sventura non giungerà fino a noi e non ci toccherà. Tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada.